Presentazione del prossimo concorrente, sempre da un famosissimo videogioco, Destiny. Lui è Andrea e interpreta il Titano. Noi, i signori del ferro, pensavamo di essere indistintibili. Chiaravamo di proteggere l'ultima città a ogni costo. Alcuni pagarono con la loro vita. Io sono tutto ciò che rimane. Credevamo di aver isolato l'infezione del sangue. Ma ora... sta tornando. Per questa volta con un esercito di cavuti. È tempo di vendicare i miei fratelli e sorelle. Unisciti. Dimostra il tuo valore. E i signori del ferro risorgeranno. Il Titano da Destiny. Bene Andrea, avvicinati. Giuria? Domande? Armatura? Accessorio? Vorrei chiederti se il fucile l'avevi realizzato te, come l'avevi realizzato. Sì, l'avevi realizzato io con il polistirene e poi ricoperto di armatura. Che sono armatura e... La scopa serviva prima. C'è ancora qualche frammento. Noi cercavamo i cosperi di Harry Potter. Attra? I don'ai fredato mentre you sono riqueza. Quando vai i scoperta i pericoli.